Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay, oggi siamo su Escape Memoirs Mentionized, un gioco che è davvero interessante, sviluppato dai Zero Deer Soft, diciamo sviluppatore che ha già realizzato un paio di titoli della serie un po' Escape Room, i primi due capitoli, capitoli 1 e 2, ambientati su un treno a quanto pare, e qui invece siamo all'interno di una casa. La cosa interessante è che questo gioco è uscito il 16 di giugno, costa 6 euro, qualcosa scontato, ma calcoliamo il prezzo pieno 7 euro, e più o meno lo stesso prezzo, potete prendere anche i capitoli precedenti, quindi se vi piacciono le Escape Room, vi avete apprezzato il video su Escape Simulator, questo può essere il gioco che fa per voi. Anche se avete adorato giochi come The Room, ecco sappiate che qua più o meno si fa la stessa cosa, con una difficoltà maggiore, con la possibilità di muoversi liberamente. La figata assoluta è che lo potete giocare in multiplayer con amici, quindi potete prendervi un amico e portarlo con voi a giocare. La trama è semplice, abbastanza semplice, nel senso che noi siamo stati assunti per fare effrazione in una casa, e una volta dentro dobbiamo uscire, ma praticamente lui dice, questa telefonata ci dice, ho assunto un gruppo di esperti di sicurezza per entrare nella mansion di Frederick Regeson per rubare un gran numero di pepite d'oro, sono stati catturati mentre pianificavano il colpo e ora bisogna che tu vada a finire il lavoro, in pratica il piano è già pronto e devi solo mettere in pratica il piano progettato dagli altri uomini. Devi entrare dal sistema di ventilazione mentre il signore Mr. Regeson è via. Buona fortuna. In pratica che cosa succede? Succede che siamo dei disastri all'inizio perché, sentite, noi entriamo e siamo all'interno di questa maggiore, insomma di questo maniero, ma siamo un disastro, abbiamo fatto cadere le cose. La cosa interessante, e questo sarà un video in cui vedremo poco, nel senso che io voglio illustrarvi il gioco e non farvi vedere come risolverlo, anche perché non ho idea di come risolverlo, nel senso che ci ho già giocato un po' in realtà, però va studiato con calma. La cosa interessante è che voi potete prendere gli oggetti e appoggiarli. Guardate, quando lo appoggio la piattaforma si abbassa, quindi significa che probabilmente qua è segnato il disegno, ecco qui, questo non l'avevo notato, il disegno del vaso che c'è sopra. E quindi bisogna un attimino capire, perché di vasi ce ne sono tantissimi, vedete, linea continua e tratteggio, è tre linee, cioè ne trovate praticamente ovunque di cose. E potete aprire i cassetti, potete aprire quello che volete. Vedete? Gli effetti atmosferici fuori dalla casa sono ottimi, invece c'è un temporale. E potete, intanto vedete che se andate a vedere qua, ci dice, ah lì sopra abbiamo lasciato la borsa, mi serve un bastone lungo per andare a prendere quella cosa che ho lasciato su. Ci sono documenti da leggere, quindi in inglese, quindi vedete che cliccando col destro potete andare a muoverlo, zoomare, leggerlo, e poi appoggiarlo. E la figata è che li potete appoggiare più o meno dove volete, dove vi lascia appoggiare il gioco. Quindi è interessante perché quando lo giocate con un amico, magari dove l'hai messo e non mi ricordo, non li potete mettere in tasca, quindi dovete per forza appoggiarli da qualche parte. Questo è un libro di... sul telefono, insomma, non so a cosa serve effettivamente. Qua c'è un altro foglio che possiamo andare a leggere. È meglio se continui il tuo lavoro dalla tua casa, da ora in poi. Stiamo mandando alcuni nostri tecnici per aiutarti. Invieremo in una settimana una cassata di sicurezza contenente materiale confidenziale. Potreste avere bisogno, include ogni prototipo che tu hai richiesto. Ogni volta che lo facciamo... Prendiamo... Ok, l'ultima cassata di sicurezza indietro. Bisogna mandarci alcuni... Puoi usare... Ok, praticamente si scambiano cose attraverso una cassata di sicurezza, che potrebbe anche essere tranquillamente questa, ma questa non si apre. La casa è tutta qui, ma in realtà, come potrete notare, ogni porta... È un po' come se ci stesse pigliando per il culo. Ogni cosa è sotto chiave. Quindi potete andare a leggere... Qua sto parlando del lavoro della manutenzione. Potete recuperare anche una torcia, che potete usare col tasto Q ed E, accesa, spenta, ma che poi dovete comunque appoggiare. E quindi... Oh, questo è un altro vaso interessante. Vedete, questo è già un piccolo iniziale enigma, che parla appunto di questi vasi. Io adesso li appoggierei qui, anche se in realtà non è questo. Comunque, diamo un'occhiata. Vedete che ci sono i primi indizi, cioè nel senso, trovate questo, che sembra essere un rullo di questa macchina. Questa macchina ha... Vedete... questo modo di... di interagire. C'è adesso qua c'è da pensarci un po', perché va a cambiare i colori di due lati, e poi gli altri due, e poi a zerarsi. E come fare? Ma il gioco, abbassandomi, vado a vedere che sotto questo libro, che adesso appoggio sul divano, c'è una piccola soluzione. Me la tengo qui, e io posso andare a leggermela, mentre sto risolvendo il... infatti vedete che posso muovermi così, la appoggio magari qui, e così vedete che sono... però, onestamente, non lo so, mi ci dovrei dedicare un po'. Possiamo andare... Allora, di qua siamo già andati, abbiamo visto che c'è lo studio. Qua c'è un altro pannello, un altro pannello, che sembra fare delle scintille. Infatti, vedete che qua manca un pezzo. Il pezzo che tra l'altro è qua. L'unica cosa che io ho risolto fino a questo momento. Ci dovrò studiare, probabilmente lo giocherò anche in cooperativa. Poi, ogni cosa appunto ha una chiave. Ad esempio questo, questo è molto interessante, perché qua vedete che non capite cosa dovete fare, ma in realtà se togliete questo, e questo poi magari lo appoggiate, o devi evitare di perderlo, mettete che serve ancora, lo appoggiiamo lì. Qua potete andare addirittura ad aprire questo, e vedere che c'è un sistema che va a collegare il cavo verde a questo, il cavo giallo che fa il giro e va qui, ma onestamente poi io non so che cosa dovrò fare, perché qua si parla di cavo verde, quindi il cavo verde, proviamo, magari parte da qui, va giù, gira di là, cavo qui, fa il giro qui, il verde va poi qui, e basta, credo, dovrebbe essere a posto. Mentre invece si parla di giallo, il verde arriva qui, il rosso parte qua, no, vediamo se c'è un altro giallo che partiva anche da qui, no, qua partiva solo il verde, che andava qui, qua non partono dei gialli, qua però parte un giallo, il giallo va qui, da qui escono blu, no, non lo so, onestamente dovrò studiarci un pochino, anche perché poi, vedete, potete muovervi e capire effettivamente che cosa, vedete qua parte un altro verde, verde che va qui, e quello non l'avevo notato, quindi vedete che siamo arrivati qui, il verde esce e va qui, rosso no, vediamo un attimo, qua c'è un giallo che parte va qui e sono d'accordo, da qua esce niente, da qua, no, non lo so, onestamente non, non lo so, perché ci sono degli interruttori, ma questi non sono interagibili, e poi, vabbè, si può salire di sopra, e vedete che qua abbiamo già comunque una porta, due porte là dietro, abbiamo la security box, abbiamo questo enigma qui dei vasi, e i vasi possiamo anche andare a cercarli e vedere, salendo di sopra invece abbiamo dei vasi così, e questo è chiuso, probabilmente questo qua è uno dei vasi che ci serve, sotto c'è anche un'istruzione con un codice, con un codice, e quindi questo secondo me serviva, quindi magari andiamo a vedere, e vi dico che l'ho scoperto adesso in tempo reale con voi, adesso questo qui, questo non c'entra una fava con questo, questo e questo, sicuro, e lì sono tre linee, però anche questo non è lui, cioè sono due linee continue, questo sono tre, eh no, vabbè, infatti qua ce ne sono anche altri, cioè è pieno di vasi, cioè ne passate di ore qui, poi ovvio non sarà un gioco da 100 ore, magari lo finirete in 7-8 ore, se siete lenti, probabilmente in genere è questo il ritmo, qua abbiamo una porta con dei simboli, possiamo andare a ruotare, però qua, la cosa interessante è che tutto quello che trovate, non ha semplicemente tre cifre, ma ne ha da le quattro o le cinque, e quindi non potete neanche star lì a tentare tutte le combinazioni, questo è un'altra cosa che non so cosa sia, è bloccata, non si capisce, ma dovrebbe esserci un testo, qua c'è una cassetta di sicurezza, credo sia questa la cassetta di sicurezza, di cui parlavano prima e non quella sotto, durante la nostra ultima spedizione abbiamo notato un uomo sospetto nel retro della tua casa che scendeva dal tetto, l'abbiamo interrogato, era abbastanza sicuro che non stesse facendo niente di buono, abbiamo controllato la sua auto, che era parcheggiata vicino, abbiamo trovato una strana no, allora è un'altra cosa, abbiamo trovato una strana valigetta, che non siamo in grado di apriere, non siamo interamente sicuri che questa fosse sua, ma se l'ha rubata te la lasciamo da controllare, stiamo pianificando di trattenerlo fino a quando non avremo scoperto qualcosa in più, nel frattempo ti chiediamo alla polizia locale di aumentare il patrullamento nella tua zona, e anche qua non sappiamo che cosa ci sia all'interno, poi vabbè, oggetti interagibili qui non ce ne sono, e qua si va verso il nostro, la nostra valigia, la nostra borsa, tra l'altro ci sarebbe anche il bastone del caminetto, ma quello non me lo fa usare, non so perché, probabilmente lo stick, quindi il bastone che ci serve, è nascosto da qualche parte e va sbloccato, allora questa è quello che ci serviva, perché linea continua, no, 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 lo appoggio qua, vabbè, questo è un primo enigma, mi ci metterò un pochino a studiarlo, la manutenzione, possiamo vedere anche cosa dice la manutenzione, che prima non l'abbiamo letto, sta procedendo, come pianificato, abbiamo sostituito i radiatori rotti, i caloriferi rotti, e abbiamo cominciato con i tubi, abbiamo installato questa nuova valvola di sicurezza, richiede tra i 1,75 e i 2,25 unità di pressione per aprirsi, dovrebbero prevenire ogni problema causato dell'alta pressione del tubo principale, continuiamo a lavorare, 1,75 e i 2,25, e onestamente non so che farmi di questo dato, perché non abbiamo accesso a niente, qua c'è il tubo aperto, tra l'altro quindi, questo io non so come gestirlo, perché non ho proprio una minima idea, perché serve una chiave, e, uh, ci sono anche questi che non avevo notato, e gli altri giochi, invece di questo sviluppatore, li trovate, sempre su Steam, ambientati però su un terreno, poi visto che hanno delle recensioni, con alti e bassi, nel senso che uno è più bello dell'altro, sembrerebbe, ma se amate questi giochi, vi riprenderete tutti, quindi con praticamente meno di 20 euro, o poco più, insomma, potete, potete giocare, ogni indizio potrebbe essere buono, tipo qua, c'è una luce che non va, due luci che non vanno, e una che va, come mai, qua si può aprire tutto, qua c'è un altro vaso, che potrebbe essere interessante, e potrebbe anche essere il primo enigma, questo, no, ma non è neanche questo, cazzo la vola, sto recuperando tutti i vasi, come il mio primo progetto personale, questo, anche, con i vasi, anche lì dietro, c'è uno, aspettate che, metto anche questo, che non c'entra niente, c'è questo vaso qui, che sembra però abbastanza complicato, è complicato questo, e non, non ce ne sono altri simili, mamma mia, li ho accumulati tutti qui, li ho poggiati tutti qui, e poi è figo, perché vi potete mettere d'accordo con, con amici, e, questo vaso qui è rotto, mettere d'accordo, insomma, e dividervi i compiti, insomma, io faccio questo, io poi quello, non c'è nulla, lascio tutto aperto, perché non vorrei mai che, mi lasci indietro qualcosa, ci sono le valvole anche, dei caloriferi, forse han detto, perché parlavano anche di un numero, con le valvole, non credo abbia cose astruse, dove dovete magari, ipotizzare, interpretare, unire i due quadri insieme, quello, è una cosa veramente pesante, in un gioco del genere, e, comunque no, non vedo, non vedo nient'altro, sicuramente, non è un gioco per tutti, sicuramente, è un gioco per gli amanti, dei, diciamo, dei titoli, escape room, qua c'è anche un'arpa, ma non si può fare niente, vedete qua, adesso non scintilla più, però bisogna anche capire, che cavolo stiamo facendo, perché qua, sicuramente è un gioco di parole, bisogna usare, queste cose, per orientare, delle parole, ma, senza un indizio in più, è difficile, è sicuramente molto più difficile, del gioco che vi avevo portato, che era Escape Simulator, senza dubbio, qui dice che uscire dalla porta principale, non è una buona idea, però, e, e niente, io, diciamo che potrei anche fermarmi qui, nel senso che, dovrei prendermi il mio tempo, e iniziare a studiare il gioco, è stata una bella novità, perché questo, comunque fa parte di una serie di giochi, che è già uscito da tempo, e io, purtroppo, magari anche voi, ve li eravate persi, quindi, mi fa, mi fa piacere, insomma, se, lo, lo, lo scoprite con questo video, fatemi sapere, che cosa ne pensate, qua ovviamente la casa va avanti, ci saranno altre stanze, ogni, ogni cosa, ogni angolo, è un enigma da risolvere, attendo il vostro parere, su questo titolo, ho buttato fiori da tutte le parti, ma sicuramente anche questo sarà utile, scusatemi, e vi saluto, lasciatemi un commento qua sotto, di quello che pensate del titolo, e ci sentiamo al prossimo video non play, alla prossima ragazzi, e ciao ciao! Ciao!